doubtless o fa un mese di black 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 ma dove sta andando resi ma quello li sta cercando il cane qua siamo al black friday tutto il mese di novembre prezzi scontatissimi il nostro divano in amoro normalmente venduta 2349 euro lo vendiamo a 1999 euro e per tutto il mese ti scontiamo anche le spese di trasporto e montaggio black black ecco un altro modello di divano in promozione divano alessia 899 euro in pronta consegna a casa tua in 48 ore fino a esaurimento scorte stella divano angolare modello verona 2 metri 83 per 2 metri 45 pronta consegna ancora pochi pezzi disponibili fatto in veneto ma quanti costerà questo divano black perché massimo si dimentica di dire che costa solo 1699 euro e che il trasporto te lo regaliamo noi con il black friday ciao black ciao cosa dire di questo fantastico divano in pelle fenix con il relax elettrico comodissimo 2.999 euro lo proponiamo a 2.899 euro e ti omaggiamo anche le spese di trasporto e montaggio tamea 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 un bellissimo divano è completamente estetico 2 metri e 40 centimetri con tutti e tre gli schienali traslanti che vanno avanti e indietro per darvi più comodità tessuto in microfibra a casa tua in 48 ore in pronta consegna a 1.299 euro a scelta altrimenti potete scegliere tutta una nostra selezione di tessuti e colori su ordinazione ma restando in promozione sempre a 1299 euro a me questo massimo da un interesse zero cioè proprio zero ma quale interesse zero interessi zero sono il finanziamento interessi zero e spese di trasporto regalate aldo black black diamo black siamo nel mese del black friday prezzi mai visti da outlet sofà questo bellissimo divano angolare destro e sinistro lo vendiamo a 999 euro puoi scegliere tantissimi tessuti e colori e se vuoi abbiamo un'estensione di assistenza di cinque anni sul rivestimento questo bellissimo prodotto con un maxi contenitore è fatto in veneto tutti i nostri prodotti sono fatti in italia e tracciamo anche la regione e dove siamo siamo a brescia bresso busto arsizio cermenate desenzano del garda garbagnate milanese rogno e suisio otto negozi in lombardia vieni a trovarci prezzi mai visti black è comodo questo divano sì ti piace da outlet sofà abbiamo tantissimi divani proprio quello che stai cercando tu due posti tre posti con relax elettrico con lettino estraibile poggia testa con i cricati regolabile guarda questo bellissimo divano con relax elettrico tessuti e colori che vuoi e guarda il cartello cinque anni di estensione di assistenza sul rivestimento se vuoi a soli 150 euro promozione solo per il mese del black friday ma guarda questo bellissimo divano con penisola in pelle vera pelle normalmente venduto a 2449 a casa in sette giorni fine esaurimento scorta 2249 e ti scontiamo anche il trasporto e montaggio oppure questo fantastico divano tre posti maxi completamente sfoderabile tessuti e colori che vuoi e tutto componibile e guarda questo divano fatto in puglia questa è puglia ragazzi tre posti con due relax relax elettrici a casa tua in 15 giorni a 1999 euro in promozione questi tre colori di microfibra a casa tua in 15 giorni a 1999 euro oppure puoi scegliere il rivestimento che vuoi tu divani letti reti e materassi da out le sofà c'è un assortimento completo adesso vi parlo dei divani letto ne abbiamo di tutti i tipi completamente sfoderabili con piede alto esempio questo favoloso divano in pronta consegna in casa tua in 48 ore con la rete elettro saldata 1099 euro il trasporto te lo omaggiamo oppure il nostro primo prezzo 899 euro sempre compreso di trasporto in omaggio materasso da 13 centimetri ma non ci fermiamo qui avete un'esigenza particolare un bracciolo un pochettino più stretto lo facciamo in microfibra lo facciamo in tessuto sempre completamente sfoderabile qui potete scegliere il materasso farlo da 13 da 18 addirittura da 21 centimetri poi vi farò vedere che cosa vuol dire avere un divano letto con vero materasso guarda la zona materassi e letti l'area del sonno qui ci si addormenta abbiamo di tutto i guanciali a 10 euro abbiamo i topper da 4 centimetri topper da 6 centimetri matrimoniali a partire da 100 euro per il black friday tutti questi articoli sono in pronta consegna a casa tua in 48 ore nella moda si usa dire l'outlet della firma da outlet sofà troverete un'infinità di prodotti di marca ve ne elenco alcuni nella zona materassi abbiamo rinaldi abbiamo quality bed abbiamo letti di le confort abbiamo le poltrone relax spazio relax piuttosto che tecno espansi ma la qualità del vero prodotto fatto in italia abbiamo divani della d3 italia abbiamo le confort abbiamo nicoletti abbiamo di tutto di più venite a trovarci i letti col contenitore sempre fatti in italia completamente sfoderabili a partire da 599 euro rete ortopedica ring a scelta potete scegliere tessuti e colori e se avete fretta in 48 ore ve lo portiamo a casa con il black friday alcuni articoli hanno il trasporto in omaggio approfittatene 8 punti vendita in lombardia cosa aspettate il black friday dura solo 30 giorni dura 30 giorni ma solo il mese di novembre e sta per finire in questa area delle poltrone in tutti i nostri punti vendita troverete una decina di poltrone relax con possibilità di dispositivo medico doppio motore tessuti colori a scelta ma qui veniamo incontro alle vostre esigenze ne ho bisogno per domani mattina non è un problema vi accontentiamo mi serve assolutamente entro sabato vi accontentiamo capiamo esattamente qual è l'esigenza di questo tipo di poltrona e noi come sempre vi accontentiamo spazio relax non è soltanto l'azienda fornitrice è uno spazio dedicato a tutti voi outlet sofà un divano per tutti qualche secondo anche questo favoloso letto curtatone in vera pelle rete ortopedica in doghe di faggio 1299 euro per il black friday 999 euro e il trasporto te lo omaggiamo non dimenticatevi i nostri materassi matrimoniali partono da 199 euro il singolo da 99 euro sono prezzi folli per il black friday ma se vuoi qualcosa di più adatto a te il centro prova materassi è giusto per te per provare il tuo materasso e trovare l'occasione giusta 199 e 350 700 1200 euro abbiamo materassi fino a 3500 euro viene a trovare il tuo e divani letto non ne avete abbiamo più di 16 modelli diversi di divani letto che potete fare il materasso di diverse altezze come dicevo prima il poggia testa col cricchetto 10 tipi di bracciolo possiamo fare il materasso da 21 centimetri tessuti e colori a scelta perché sono tutti sfoderabili questo favoloso divano letto con il piedino alto qui abbiamo lo schienale più alto perché più alto di 180 centimetri un materasso da 21 centimetri sempre favoloso guardate che spettacolo apertura rapida qui in fondo vi trovate un letto no è un divano letto ma sembra un letto con i suoi due bei cuscini bracciolo slim 180 centimetri di larghezza stiamo parlando di 1450 euro divani letti divano letto a partire da 899 euro in pronta consegna noi vi accontentiamo il materiale che vedete ve lo portiamo a casa in sette giorni per il vi devo salutare perché vedo massimo e resi che mi stanno facendo segnali devo andare a trovare black e anche il gattino friday ciao a tutti outlet sofà lo trovate a brescia via triumplina 207 700 metri quadri di esposizione a busso arsizio via per fagnano lona di fronte alle selunga a bresso via carolina romani 1 700 metri quadri di esposizione con ampio parcheggio a cermenate via europa unita 43 a fianco del centro veneto del mobile 800 metri quadri di esposizione ad esenzano via ugolamalfa 64 zona rossetto a garbagnate via primo maggio parco e selunga fontana rossa a rogno via montegrappa 31 nel parco della damello village a suisio viale europa 35 zona isola in tutti i nostri negozi troverete divani poltrone letti materassi tantissimi articoli in pronta consegna e ci sono gli interessi zero outlet sofà un divano per tutti e anche questo black friday e natale e natale due anni io che non lo vedo ma no natale la promozione di natale cosa facciamo ma ci penseremo natale ci penseremo dai dai